Bene, siamo in vigna con Nicola Oberto della cantina 3D Berry, siamo alla morra di una dei vigneti, una delle conche più belle di questa cittadina del Barolo, una degli undici comuni del Barolo e lascio la parola a Nicola che ci racconti qualcosa della sua azienda e soprattutto qualche idea sul vino e sul suo lavoro e su quello che dedica, visto che dedica la sua vita al vino, qualche pensiero sparso. Sul più bel lavoro del mondo, perché alla fine è questo. Qua siamo nella vigna Torriglione che è in fronte alle Rocche dell'Annunziata e queste qua sono vigne del 1958 che purtroppo ad aprile hanno vissuto un trauma, poi abbiamo preso tantissimo gelo e come vedete la produzione sarà attorno al 30 per cento, quindi totale. E' un peccato perché Torriglione è sempre, da quando l'abbiamo ripreso, prima questa vigniera è un affitto Renato Ratti, l'abbiamo ripresa in affitto e l'abbiamo sempre cercato di inserirla nel Barolo Classico, quest'anno chiaramente non potremmo, quindi probabilmente vedremo, venificheremo a parte, ma l'idea probabilmente sarà quella di fare un unico Barolo, magari anche confermentando, vedremo un attimo poi in vendemmia cosa succederà. Però questo fa parte del gioco del produttore, no? Non potevamo essere, come dire, abituati o aspettarci una roba del genere e questo fa anche capire quanto sia anche a livello economico, non una passeggiata fare vino. Oggi fare vino è figo, è fighissimo, tutti vorrebbero farlo, così come dopo Masterchef tutti vogliono fare il cuoco. C'è un discorso di sostenibilità ambientale, c'è un discorso di bontà del vino, ma c'è anche un discorso fondamentale che è la sostenibilità economica, perché eventi come questo, come un gelo del genere o una grossa grandinata, ora contro la grandinata per esempio ci sono le reti, ora anche a livello estetico, per piacere o non piacere, c'entra però possono salvare, mentre invece il gelo ci ha colto completamente alla sprovvista. Quindi se una cantina non ha, secondo me, un piano economico, un piano finanziario solido, abbastanza solido, dei colpi del genere, fanno sì o che i prezzi schizzino in alto, che anche se è corretto, proprio allora c'è una fluttuazione, perché poi anche nella testa dei consumatori diventa difficile comprendere questa fluttuazione, perché paradossalmente l'annata più cattiva deve costare di più, non viceversa. Invece se c'è un piano finanziario, un piano economico solido, che aiuta l'azienda a proseguire in maniera solida, senza anche avere delle riserve che fanno sì che si possa sopravvivere a cose del genere, allora a quel punto uno vive anche con meno pressione e questo secondo me è una sfida che, oltre al buono, al pulito e al giusto, si dovrà affrontare nei prossimi anni, perché pragmaticamente è importante e cose del genere ti mostrano come ogni anno ci siamo di fronte a delle sfide, oltre a quelle ambientali, climatiche, anche a livello commerciale, ci sono anche delle sfide economiche, finanziarie, perché, appunto, c'è un disastro del genere, ma uno deve cercare di far fronte, senza modificare in pieno la propria filosofia anche a livello commerciale, strategia di prezzi, eccetera. Ecco Nicola, molto rapidamente, un ultimo flash, invece, sulla vostra scelta di cui mi parlavi prima, mentre passeggiavamo nelle vigne, di uscire dal biologico per le dosi di rame che vi sono state comunque imposte dalla legge. Ecco, su questo punto, se puoi farci un brevissimo flash, secondo me è molto importante anche per far capire a chi ci ascolta, ci leggerà la nostra guida, la tematica. A fine 2018 l'Unione Europea ha deciso di cambiare la regola dell'utilizzo di rame in vigna, si è passati da 30 kg in cinque anni, quindi una media di 6 kg all'anno, a 28 kg in sette anni, quindi si è solo scesi di due, ma soprattutto si è aumentato di due anni la media. Questo vuol dire che c'è la possibilità di usare 4 kg all'anno di rame. Cosa vuol dire? Io un anno ne posso usare sei, un anno ne posso usare due e sto comunque nei quattro, però quattro è molto diverso da sei, anche perché nella nostra zona questa terra, questa è Marla di Sant'Agata, questa terra adesso qua ma sotto è tanto limo, argilla e sabbia, ma limo e argilla sono circa 70-75% di quello che è il suolo, vuol dire che è molto plastico, trattene molto l'acqua e l'umidità. Questo vuol dire che il grande problema a livello proprio della salute delle piante è la peronospora. Io a un certo punto nel 2019 abbiamo ancora provato a essere biologici, se l'abbiamo fatto nel 2019 grazie al cielo è stata un'annata molto facile anche dal punto di vista di gestione della vigna. Nel 2020, che poi a posteriore è stata un'annata facile, ma c'è stato un momento a maggio in cui ha piovuto anche poco, però continuativamente per 12 giorni e a quel punto noi abbiamo dato un trattamento una volta a spalla e la seconda volta io onestamente, mio padre ha 71 anni, io voglio essere felice, ho già abbastanza pressioni di clienti, giornalisti, guru che ti dicono la vita, ti leggono la vita, a quel punto mi sono detto ma io, così lo dico proprio, non tratto cocaina, tratto con rame e quindi a quel punto mi sono detto ma io non penso che debba, se non sono più d'accordo con questo protocollo è giusto che esca. Quindi dopo dieci anni di onorato servizio, da quando abbiamo iniziato, noi siamo cominciati a certificarsi, noi abbiamo fatto tutta la conversione, abbiamo fatto tre anni, quattro anni di certificazione e poi siamo andati via. Lo so che è una scelta controcorrente ma onestamente mi è sembrato molto più onesto perché non sono... e poi è stata comunicata malissimo, onestamente è stato solo un ente che è la FIVI che ha veramente preso per mano questo e ha cercato di dare risalto a livello comunicativo, anche perché vi dico solo questo, questo cambio di rotta, ma se uno la media su cinque anni e poi la media su sette, ma quando tu sei a cavallo che media conta? Cioè un problema normalissimo che però nessuno è stato in grado neanche di spiegarci perché è tutto molto fumoso e questo secondo me è stato comunicato male dagli enti certificatori perché a noi per esempio è stato detto in maniera con una newsletter, però questo deve essere una, secondo me è una roba affrontata molto in maniera molto più precisa e allora a quel punto io non ho più condiviso l'approccio sul biologico e abbiamo deciso di smettere. Poi ripeto, avete visto la terra, avete visto, vedete quello che è, cioè questo è un po' l'idea del nostro terreno, di come lavoriamo. Se vi piace bene venite in campagna, venite con me, vi porto a vedere la vigna, fate tutte le analisi che volete sui multi residuali eccetera, questa forse è la risposta più completa alle certificazioni che ci sono o non ci sono, ma alla fine forse è questo il concetto.